Enzimi vai a prendere nella doccia Il ciotolino rosso Andiamo? Andiamo a prendere il ciotolino rosso Via con il ciuccio Brava Vai 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 Corri corri che serve la tua sorella per fare la doccia Perché? Eh perché dobbiamo togliere un po' di acqua di dentro il secchio Allora vuoti il ciotolino rosso Vuotalo Vuotalo Perfetto e portalo subito alla mamma Finito Posso farlo io? Sì Posso farlo io? Vieni Sì ma Ci vuole una sedia Una sedia Vai a prendere la sedia Intanto lo prendo Vieni a prendere la sedia Angie In sala Eccola Secondo me ti servono due mani Ha finito E tu prendi l'iPad? Sì E' finito tu? Prima di me Eccola Adesso facciamo così Che ne mettiamo dentro un po' più caldo di acqua Eh? La metti dentro tu? Non tu Vai Vieni un picciotolino Eh? Com'è? Non ce l'ha fatta comunque E' profinta Ecco Le metti dentro piano piano Se non sulla sua testa E' brava Così Eh Rico Visto piccola co? E' brava tua sorella Sì Allora E' secondo me Se la faccia Mettene ancora Cosa fa con le cose in bocca? Vai Ciao Ancora? E' calda? Sì Dai Mettene ancora un bicchiere Un ciotolino Ancora? Mh 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 Nel tiro tutto Ancora Bravissima Molto brava Angelica B Mh 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 Sau Mh 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 DE Mh